Ben trovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito quali sono gli argomenti del giorno. In primo piano ci occupiamo di sanità. Solo quattro infermieri al punto nascita dell'ospedale di Sulmona. Allarme della CGL che chiede un incontro urgente all'ASL. Sentiamo tutto nel servizio di Andrea D'Aurelio. Punto nascita in pieno rilancio. Ci ricarete i numeri, ma in grido l'allarme del segretario della FPCGL, Lendoni Pasqualone, riguarda la carenza di personale. Il reparto di ginecologia ostetrici, a fronte delle assenze, si trova ad operare anche con quattro unità, a meno per quanto riguarda il personale infermeristico. Una situazione che non è andata giù a sindacato, che ha scritto al direttore generale dell'ASL, a Vezzano Summona L'Aquila, a Rinaldo Tordera, chiedendo un incontro urgente. Forti preoccupazioni vengono espresse dai lavoratori, i quali continuano ad operarsi a fine di garantire le attività di reparto con enorme spirito di servizio e abbenegazione, fa notare Pasqualone. Il riferimento è al personale infermeristico, che è stato ridotto a sole quattro unità, e che, dovendo garantire la copertura del turno H24, rinuncia costantemente ai riposi previsti dalla vicenda normativa, con le evidenti ripercussioni che tale situazione genera sulle condizioni di lavoro di ogni operatore, con l'intento di tutelare sia il livello qualitativo del servizio erogato che il livello di sicurezza di tutti gli operatori, il sindacato chiede all'ASL un incontro urgente finalizzato all'adeguamento numerico delle risorse umane e del ruolo sanitario, in modo tale da poter contestualmente garantire l'erogazione di un servizio efficiente ed efficace e il rispetto delle normative vigenti in tema di lavoro. Un incendio in Pineta all'interno dell'area marina protetta Torre del Cerrano. Questo lo scenario di un'esercitazione antincendio, la prima che si svolgerà giovedì 15 giugno dalle 10 e durerà circa un'ora. Lo hanno deciso la scorsa settimana durante una riunione operativa i dirigenti dell'area marina protetta Torre del Cerrano e il comune di Pineto. Alla riunione naturalmente hanno preso parte i vigili del fuoco con il comandante e i coordinatori di Roseto e Teramo, oltre i neocostituiti nuclei AIB. Importante la partecipazione alla riunione e all'esercitazione dei rappresentanti della Guardia Costiera, della Polizia Municipale, di diverse associazioni ed operatori locali, tra cui in particolare la protezione civile di Silvi, che dispone di moduli antincendio e il PROS ONLUS di Pineto, che garantirà l'assistenza con le ambulanze. E lasciamo dunque questa notizia che riguarda un'esercitazione. In caso di incendio, parliamo adesso di un incendio vero e proprio. Vigili del fuoco impegnati ieri nelle operazioni di spegnimento di un incendio di sterpaglie che si è sviluppato nelle campagne tra Penne e Loreto a Prutino, in contrada a Laureano. Le fiamme hanno interessato una zona piuttosto estesa e impervie. Proprio per questo motivo è intervenuto l'elicottero dei vigili del fuoco che ha effettuato dei lanci. non distante dal rogo, ci sono alcune abitazioni. Vigili del fuoco intervenuti via terra con due squadre hanno presidiato gli edifici in via precauzionale. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Montesilvano. E adesso torniamo a Sulmona per occuparci della variante al nucleo industriale per il presidente di Asconfidi, Ascom Servizi, Claudio Mariotti e la fine del Centro Storico. Sentiamo tutto nel servizio di Andrea D'Aurelio. Questo provvedimento sancisce la fine del Centro Storico che è un quartiere già in declino. Sono le parole del presidente di Asconfidi, Ascom Servizi, Sulmona, Claudio Mariotti, che prende la palla in balzo per esprimere perplessità sulla variante alle norme tecniche d'attuazione del piano regolatore del nucleo industriale di Sulmona. Come confesse Arcendi e CNA anche Mariotti contesta il metodo adoperato dall'amministrazione comunale. Non siamo stati minimamente coinvolti anche se il nostro parere non sarebbe stato comunque vincolante. In calza il presidente dell'Ascom convinto che il potere della grande distribuzione è più forte di quello delle associazioni di categoria e dei piccoli commercianti. Con questo provvedimento si va a delineare una nuova connotazione del commercio cittadino. Certo è che l'area industriale si apre alla concorrenza ma va considerato che il potere della grande distribuzione supera quello delle piccole attività. E' in cara Mariotti che non è soddisfatto del provvedimento approvato dal Consiglio Provinciale su impulso dell'assessorato all'urbanistica per l'Ascom la variante al piano regolatore del nucleo industriale segna la fine del centro storico. E adesso l'avvertenza delle cooperative del comune di Sulmona il Movimento Italica chiede le dimissioni del segretario generale di Palazzo San Francesco non si doveva arrivare a tanto e quanto sostiene il Movimento Italica sentiamo. Si è delegato all'esterno una decisione che poteva essere assunta a Palazzo San Francesco e doveva essere presa tempestivamente e il coordinatore di Italica Alberto Ligian Domenico a tornare a parlare di vertenza copp chiedendo le dimissioni del segretario generale Francesca De Camillis che scrive Ligian Domenico quotidianamente dovrebbe assumersi la responsabilità di quanto decide per questo è impiegata non per altro. Invece di inviare il tutto l'autorità nazionale anticorruzione non si poteva garantire la clausola di salvaguardia dei lavoratori magari consultando in merito gli uffici compenenti del comune dotato di un valido ufficio legale dirigenti capaci professionali e persino di un segretario generale comunale si chiede il coordinatore di Italica convinto che ancora prima dell'occupazione era possibile inserire la clausola sociale di salvaguardia dei lavoratori delle cooperative nel bando di gara per i servizi da garantire al comune di Sulmona in comune qualcuno non si è assunto le proprie responsabilità l'amministrazione ha lasciato occupare ha omesso di dire che la clausola di salvaguardia poteva essere garantita ancora prima dell'occupazione insomma qualcuno ha preferito ricorrere all'autorità nazionale anticorruzione pur di non scegliere e per evitare di rispondere del proprio operato in breve si è perso tempo prezioso soprattutto per i lavoratori che hanno perso il posto di lavoro Di Giandomenico fa riferimento anche all'accordo politico raggiunto alcune settimane fa era possibile però fare tutto questo ancora prima di occupare l'aula consigliare di Palazzo San Francesco si sarebbero potuti evitare disagi dipendenti alle famiglie dei lavoratori si poteva evitare uno salo di agitazione che ha messo in subbuglio un'intera città che non riesce più a tamponare l'emoragia dei posti di lavoro concluda il leader d'Italica La fondazione Carispac non molla sul recupero dell'ex cinema Balilla di Sulmona recupero in un anno e mezzo la storica sala cinematografica sarà trasformata in un polo culturale il servizio di Andrea D'Aurelio Non è caduto nell'obbrio il progetto di riqualificazione dell'ex cinema Balilla a breve riprenderanno i lavori in modo tale che nel giro di un anno e mezzo l'opera sarà completata lo annuncia ai microfoni di Onda di Gimmo Taglieri già vicepresidente della fondazione Carispac ora presidente della società di scopo della fondazione per l'ex cinema Balilla è stata stanziata una somma di un milione e mezzo di euro secondo il progetto originario della fondazione l'intento è quello di realizzarvi un centro polivalente dedicato a varie attività culturali l'edificio si estende su 700 metri quadrati 500 dei quali coperti oltre al cinema è stato acquistato anche il locale attivo che ospitava una trattoria la destinazione è cadastrale della struttura frequentata da intere generazioni di sulmonesi e commerciale cinematografica ma l'obiettivo della fondazione è quello di realizzarvi un polo culturale una sorta di pantheon per omaggiare quanti si sono distinti e si continuano a distinguere per il progresso della vita culturale del capologo Peligno la nostra intenzione è quella di creare un circuito della cultura che comprende la casa delle culture recupero dell'ex cinema Balilla gli edifici vicini da destinare alle associazioni spiega Mimmo Taglieri l'edificio stile Liberty che si trova a pochi passi dal complesso dell'Annunziata è stato costruito dagli anni 30 e poi chiuso 40 anni dopo nel gennaio del 2010 a causa dei danni provocati prima dal terremoto poi dalle incessanti piogge è venuta giù una parte del tetto costringendo i proprietari e una famiglia sulmonese a transennare l'ingresso da tempo è stato di abbandono lo storico cinema dovrebbe tornare presto a essere un luogo di promozione culturale e a disposizione della città adesso torniamo ad occuparci di sanità per parlare di un caso morsa dal gatto è costretta a girare tre ospedali e tutte le farmacie per trovare il vaccino dell'antitetanica e questa all'odissea di una donna di Sulmona che ha bussato alle porte del tribunale per i diritti del malato per esporre questa sua problematica sentiamo nessuna struttura sanitaria disponibile a somministrare un'antitetanica a una donna di Sulmona dopo che è stata presa in carico dal pronto soccorso dell'ospedale Peligno protagonista della vicenda è una donna di Sulmona che ha deciso di bussare a rapporto alle tribunale per i diritti del malato presentando regolare denuncia l'episodio ha davvero dell'incredibile la donna viene morsa dal suo gatto domestico quando decide di ricorrere alle cure del pronto soccorso per guarire la ferita i sanitari applicano cinque punti di struttura e prescrivono il vaccino per l'antitetanica il medicinale non era nella disponibilità del presidio ospedaliero di Sulmona ma nemmeno nelle farmacie collocate sul territorio comunale è qui che comincia l'odissea della donna costretta a bussare alle porte dell'ospedale di Popoli e a Vezzano il medicinale non si trova né al nosocomio popolese né nelle farmacie cittadine alla fine l'impresa riesce a Castelvecchio su Beco e la donna viene somministrato il vaccino nell'asle di Via Gorizia sul Mona nonostante la chiusura giornaliera la signora con quella ricetta si rega in tutte le farmacie di Sulmona e non riesce a trovare l'antitetanica dopodiché torna al pronto soccorso e le viene detto guardi faccio un giro eventualmente anche a Popoli veda lei come può fare per intracciare il vaccino la signora si rimette in movimento va all'ufficio vaccinazioni del poliambulatorio per capirci con Boniani e trova una dottoressa disponibilissima che nonostante la chiusura giornaliera di quel servizio si mette a disposizione e le fa un vaccino che avrà effetto entro i 15 giorni dopodiché continua la sua ricerca Castel di Sangro non ha l'antitetanica ospedale Avezzano risulta non esserci l'antitetanica alla fine sul suggerimento di una farmacia di Popoli trova l'antitetanica a Castelvecchio una farmacia di Castelvecchio questo è quanto noi ci chiediamo se l'antitetanica è un vaccino salvavita e se l'ospedale è obbligato ad esserne provvisto oppure no il realtà il medicinale si trova di rado nel territorio regionale anche se ricordano dell'ospedale dell'annunziata il vaccino contro il tetano è uno dei vaccini obbligatori in Italia e adesso ci spostiamo a Prato la Peligna per parlare ancora una volta dell'elezione a sindaco di Antonella di Nino Prato la Peligna aveva già avuto un sindaco donna nel 1978 quando il centro Peligno anticipò le quote rosa ce ne parla nel servizio Andrea D'Aurelio per un anno Pratola dal 1978 al 1979 ha avuto già un sindaco donna si tratta di Maria Teresa Presutti docente di inglese professore istituto tecnico commerciale di Sulmona particolarmente apprezzata all'epoca da alunni e colleghi per il suo lavoro con lei sono cresciute intere generazioni di pratolani a distanza di 38 anni ecco un altro sindaco donna alla guida del paese Antonella di Nino eletta dopo le consultazioni comunali dell'11 giugno corsi e ricorsi storici il pensiero è andato subito al primo sindaco donna di Pratola Peligno Maria Teresa Presutti che dopo essere stata contattata dalla nostra emittente onda tv ha preferito non rilasciare dichiarazioni è stata lei nel 1978 a gettare le basi per l'urbanizzazione del quartiere di Valle Madonna finito al centro dei riflettori proprio alla vigilia delle elezioni nel corso della campagna elettorale Valle Madonna è stata serie dei svariati comizi ma anche il continuo riferimento sul dibattito dell'edilizia scolastica vista la presenza della scuola se è vero che non esiste presente il futuro senza la memoria del passato questo particolare non può sfuggire proprio nei giorni in cui un'altra donna ha ricevuto la fascia da sindaco e si è insediata nella poltrona del primo piano del palazzo municipale assegnato domenica d'intro d'acqua il premio Pascal D'Angelo al professor Francesco Sabatini presidente onorario dell'Accademia della Crusca a Sabatini è stata conferita anche la cittadinanza onoraria di intro d'acqua il servizio ed è Gaetano Trigilio La lingua è un fatto biologico prima che culturale lo ha detto il professor Francesco Sabatini eminente studioso della lingua italiana e presidente onorario dell'Accademia della Crusca domenica scorsa d'intro d'acqua Sabatini ha ricevuto il premio internazionale di letteratura Pascal D'Angelo 2017 per il suo ultimo lavoro librario lezioni di italiano editrice Mondadori contestualmente gli è stata conferita la cittadinanza onoraria d'intro d'acqua unitamente al critico letterario Dante Mafia Lei parla di dialogo con il lettore non lezione ma dialogo parlare con il lettore è forse la cosa più bella e più interessante per lei Certamente il libro si compone di due decadi le prime dieci sono dialoghi con il lettore le altre dieci di inviti al lettore a percorrere delle strade di analisi della struttura della lingua e di analisi dei testi quindi dialoghi inviti e andare in compagnia Sabatini utilizza una formula che finalmente ci fa capire come la lingua non è qualcosa di estraneo al nostro corpo e alla nostra psiche anzi nasce si forma addirittura mentre siamo dentro la pancia di nostra madre il premio che la giuria del premio Pasqualdangelo ha segnato quest'anno al professore Francesco Sabatini consiste in una somma di 1500 euro che il professore ha deciso di donare in beneficenza in particolare per l'acquisto di un defibrillatore che sarà donato all'Aias Onlus Il presidente dell'associazione Sante Ventresca visibilmente commosso ha ringraziato il professore donandogli una statuetta di Ovidio opera dei giovani assistiti Molto interesse ha suscitato l'intervento di Sabatini al quale sono state rivolte domande sull'uso e su alcune particolarità della lingua italiana In 13 edizioni noi abbiamo fatto venire qui a Introdacqua dei personaggi di grandissimo spessore culturale e quindi noi ci avvaliamo appunto di queste persone soprattutto nel campo della letteratura perché è da qualche decennio che la letteratura è un po' indeglino Si svolgerà sabato prossimo 17 giugno a partire dalle 9 la quarta conferenza del centro studi per le reti ecologiche esperienze di Road Ecology ricerca pianificazione e progettazione per la sostenibilità ecologica delle infrastrutture organizzata dal centro studi per le reti ecologiche della riserva naturale regionale Montegenzano Alto Gizio dal comune di Pettorano sul Gizio e dal Lega Ambiente Abruzzo Onlus L'appuntamento si svolgerà a Pettorano l'intento è quello di comporre un quadro delle più significative esperienze di ecologia stradale si legge in una nota prendendo in considerazione sia la ricerca pura che tutti quegli esempi di integrazione e contaminazione di questo settore all'interno di lavori di più ampio respiro come la redazione di piani territoriali urbanistici oppure le valutazioni ambientali ma anche gli studi faunistici oltre a molti ricercatori italiani saranno presenti anche i relatori provenienti dal Portogallo e dal Regno Unito e adesso lo sport è ripartito a Sulmona il gran premio confetti pelino di ciclismo dopo lo stop forzato dell'anno scorso per le elezioni amministrative l'appuntamento di ciclismo nazionale per allievi si è svolto la scorsa domenica avvincenti gli ultimi chilometri con il successo di un corridore laziale vediamo Andrea Spaziani del Velosport Fiorentino si è imposto domenica a Sulmona al Gran Premio confetti pelino gara nazionale di ciclismo per allievi giunta alla 58esima edizione il ciclista laziale è giunto solitario sul traguardo di Viale Mazzini dopo una fuga a tre secondo è arrivato il compagno di squadra Augusto Visca e terzo il teatino Giuseppe De Laurentiis ho tentato ad allungare al secondo giro ma non ci sono riuscito poi ai quattro giri dalla fine ho riprovato ancora mi sono ganciato con un altro ragazzo e al giro dopo è rientrato anche il mio compagno di squadra abbiamo collaborato molto bene agli ultimi tre chilometri è partito il mio compagno di squadra l'avversario ha rimesposto al suo attacco l'ho riprovato io sono riuscito a prendere 200 metri li ho portati fino all'arrivo il gioco di squadra è stato dunque determinante nell'ultimo giro quando Spaziani e Visca dopo una serie di scatti ripetuti hanno messo in difficoltà la Bruzzese Giuseppe dell'Aurentis che si è dovuto accontentare del terzo posto l'ultimo chilometro è stato molto duro io non sono riuscito ad andare a chiudere all'ultimo scatto e sono rimasto con l'altro ragazzo e non sono riuscito a fare il secondo fortunatamente la gara è ripresa dopo lo stop forzato dell'anno scorso causa elezioni una bella gara con tanti partenti si sono dati battaglia un bel finale ringraziamo ancora una volta Pelino che ha voluto far sì che questa manifestazione si svolgesse 64 i corridori al via in rappresentanza di 17 squadre provenienti da Bruzzo, Lazio, Campania Marche, Puglia e Basilicata un bel numero di partecipanti per questa edizione organizzata con il patrocinio del Comune e con la collaborazione del Panatron di Sulmona che ha beneficiato del sostegno dell'UMPLI provinciale nell'ambito dell'iniziativa Le Proloquo e lo Sport l'evento è stato organizzato in ricordo di Alfonso Lindo ed Antonio Pelino Io sono appassionato di ciclismo quindi per me insomma è normale ma poi questa è una cosa che ha iniziato nostro nonno quasi 60 anni fa è quasi un obbligo continuare fa parte della nostra storia della nostra tradizione adesso quanto durerà ancora dipende da tanti da tanti altri fattori però noi ce la metteremo tutta per continuare e dal ciclismo all'atletica perché il giovane velocista Luigi Marrese 15 anni del liceo scientifico Enrico Fermi di Sulmona non smette di stupire il mondo dell'atletica regionale e nazionale dopo gli ottimi risultati ottenuti alle gare indoor che lo hanno lanciato nel firmamento della velocità l'atleta sulmonese continua a dimostrare di aver saputo mantenere il valore espresso negli eventi invernali anche in questo periodo giorni fa sulla pista di Fiumicino in occasione della gara denominata 3000 di sera ha corso i metri 80 in 9 secondi vincendo e stampando un risultato che resterà negli annali dell'atletica abruzzese infatti il tempo ottenuto in questa gara tra l'altro corsa senza grandi avversari oltre a rappresentare il miglior risultato stagionale mai realizzato in Abruzzo nel 2017 rappresenta anche il miglior tempo regionale dal 2005 e il sesto tempo nazionale di quest'anno a Fiumicino il promettente velocista nei 300 metri ha messo tutti in riga correndo con grande facilità in 38 secondi e 5 comprimenti dunque a Luigi Marrese per questa affermazione era questa l'ultima notizia di questa edizione del nostro telegiornale ma come al solito prima di concludere ci sono i film in programmazione la multisala Ijoland di Corfinio La Mummia Pirati dei Caraibi la vendetta di Salazar Wonder Woman ricordiamo che in questo periodo c'è solo una proiezione alla multisala Ijoland di Corfinio alle 21 e 10 è tutto per questa edizione del giorno del nostro telegiornale grazie della cortesa attenzione prossimo appuntamento con l'informazione in diretta questa sera alle ore 20 ci salutiamo con il meteo arrivederci sulla nostra regione condizioni generali di cielo prevalentemente sereno poco nuvoloso con possibili annuvolamenti a ridosso dei rilievi temperature massime in ulteriore aumento specie nelle principali valli della nostra regione la Valle Pelligna la Val Vomano la Val Pescara e la Val di Sangro nella giornata di domani assisteremo ad un graduale aumento dell'istabilità che riguarderà inizialmente il Terramano e il Pescarese nonché l'Adriatico Centrale specie nel tardo pomeriggio nelle ore serali e in nottà giovedì l'istabilità pomeridiana si manifesterà soprattutto sulle zone interne montuose temperature in ulteriore aumento specie nei valori massimi venti deboli a regime di prezza mare generalmente poco mosso a l'iscrizione Grazie a tutti